Cosa abbiamo imparato da questa stagione autunnale degli anime? Il video seguente è basato solo su quello che ho visto in questa stagione e il video può contenere spoiler! Che se ti manca la forza brutta è il momento di usare il cellulare e tirargli in testa un Nokia 3310! Ma nella prossima stagione... Che se tuo fratello è un cocciuto traditore con i capelli platinati vola a una velocità supersonica e tiragli un pugno in faccia! Che sei una buona trama, una bellissima opening e dei bei disegni ma un protagonista testardo che non matura per niente durante l'anime non ci puoi fare niente! Che se vuoi andare a fare qualcosa nella vita devi essere raccomandato! Che se eri contento della mancata apparizione di Asuna fino ad adesso eccola qui arrivare in versione Gesù! Che se devi fare il sangue a volte bianco e a volte rosso allora la sbo... Che la tecnica del denudamento trasmissivo è una cosa abbastanza interessante Che se non sei pronto non puoi combattere finché non sei ready perfectly e che per essere sicuri che una cosa sia morta è meglio distruggere l'intera città Che le panchine sono figlie del demonio Che la pedofilia è accettabile e che la sigla mi piace un sacco Che Zootropolis? No! C'è prostituzione pugni in faccia in Zootropolis? Non credo! Fumate! Che il protagonista ha una pistola come testa! Non state ancora fumando! Che se sei un wrestler che ama gli animali in un isekai Addio donne principesse perfette Venite demoni e signore pelose Che se siete un gruppo di prodigi e volete abbattere un cattivo Basta usare l'atomica Forse E se avete avuto successo con la prima stagione Buttate 9 episodi su 12 nel cesso e fatene buoni 3 nella seconda E tutti quanti l'apprezzeranno Forse Che se tu hai venduto la tua anima un demone Non è poi così male Che se il suicidio diventa legale Beh Sono cazzi E che le donne Sono terrificanti Che è un isekai praticamente su chi ha le tette più grosse Che se guardi un anime di soft tennis non puoi aspettarti Per la miseria gli ha appena versato dell'acqua bollente addosso Che per essere un vero investigatore Devi lavorare in un locale con uomini travestiti Che se sei un bel isekai ma hai una salute cagionevole Ti fileranno in pochissimi Che l'altezza non conta Almeno che tu non diventi un nemesis gigante In quel caso sono cazzi Che è un entai XL Aaaaaah Sven Aspetta un attimo Aaaaaah Aaaaaah Grazie.